Intervento del Movimento 5 Stelle di Canicattì sulle scuole della città, in particolare sulle cause che lo scorso 14 ottobre hanno determinato la decisione del sindaco Ettore Di Ventura di chiudere i plessi scolastici Lagarrubba e Rapisardi a causa della loro inagibilità. Nel novembre del 2015 la vecchia amministrazione presieduta dal sindaco Corbo sul nostro suggerimento, si legge una nota dei portavoce Falcone e Bertolino, ha partecipato ad un bando del Ministero dell'Istituzione per ottenere un finanziamento per indagini diagnostiche sui solai degli edifici scolastici di pertinenza comunale. Si riesce ad ottenere finanziamento, pare il 50% del costo per i controlli da eseguire sulle scuole elementari Crispi, Lagarrubba e Rapisardi. Per non perdere il finanziamento i lavori dovevano essere aggiudicati entro il 31 gennaio 2016. L'obiettivo, dichiarato al Governo nazionale, è tempi certi per le indagini. Con il verbale di gara del 29 gennaio i lavori vengono aggiudicati in maniera provvisoria alla società di Ismat SRL. La giudicazione definitiva è avvenuta il 13 maggio, cioè dopo oltre tre mesi. Un ritardo al nostro giudizio eccessivo, dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Canicattì, visto che l'ufficio contratti del Comune avrebbe dovuto semplicemente effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dalla società giudicatrice della gara. Ma c'è di più. Il contratto principale tra Comune e Ismat viene firmato soltanto il 21 giugno, cioè oltre un mese dopo la giudicazione definitiva. Ma il peggio deve ancora arrivare. La Ismat consegna i lavori nel mese di luglio e nel frattempo si è insediata la nuova amministrazione di Ettore di Ventura. Dalle indagini diagnostiche strutturali sui solai delle scuole emerge che le scuole elementari Rapisardi e Lagarrubba sono inagibili. Lo certifica la Dismat, azienda di settore qualificata, per cui l'amministrazione comunale possedeva già tutti gli elementi che avrebbero dovuto imporle di non consentire l'avvio dell'anno scolastico in quegli edifici. Nella inconsapevolezza del pericolo corso da tutta la cittadinanza, soprattutto dai genitori e dai bambini, è iniziato l'anno scolastico nelle scuole pericolanti. Un elementare principio di prevenzione e precauzione avrebbe dovuto suggerire al sindaco e a chi di competenza di non aprire quelle scuole. E se dubbi fossero stati sugli accertamenti compiuti dalla Dismat, ma non ne comprendiamo il motivo, altri controlli si sarebbero dovuti eseguire a scuole chiuse, dicono il portavoce al Consiglio Comunale Fabio Falcone e quello del Meetup Giovanni Bertolino.